Il marcianese torna immediatamente a raccogliere punti aggiudicandosi la sfida campana con l'Algelbison. 4-1 con Citro e gli ad arresta protagonisti. Mister Foglia Manzillo sceglie Danna nella mediana a completare il trio con Temponi e Viola riportando Ciano nella consueta posizione esterno-destro. Partenza al razzo della squadra del presidente Danna con Citro che con un sinistro al volo dopo la sponda di Temponi mette Caron tenuto in difficoltà, salvo anche con l'aiuto del palo. Al secondo gli ospiti ci provano con Tedesco su punizione dalla distanza ma la palla si spegne sul fondo. All'ottavo il rosso-blu con Siga rubano palla a centrocampo, lancio perfetto per Tedesco che appena è entrato in aria con il destro trafiggio in bimbo. 0-1. Cinque minuti più tardi risposta del marcianese con Citro che si invola in aria, tenta il pallonetto con Caron tenuto in uscita ma la spaccata di Criscuolo salva la sua porta. Ancora marcianese in attacco al ventottesimo sinistro di Viola che vede rispondere Caron tenuto con un ottimo intervento. In chiuso l'ultimo primo tempo ancora Viola lancia verso Iadaresta, solita sponda dell'attaccante che trova Danna e l'under marcianisano non ci pensa due volte tirando al volo di esterno-destro con palla che sfiora l'incrocio dei pali. Un attimo prima dell'intervallo sugli sviluppi di un corner preciso stacco di testa di Iadaresta che trova così il gol dell'1-1. A ritorno in campo subito marcianese in attacco. Citro con una percussione delle sue buca la difesa e col sinistro prova la giocata ma Caron tenuto si salva in angolo. Al ventunesimo arriva il vantaggio della capolista che trova un rigore per falo di mani in aria di Criscuolo. Dal dischetto va Citro che spiazza il portiere. 4 giri di lancetti, ancora il numero 10 ma in rete Gerardi è agganciato da Ruggeri e per l'arbitro è ancora a rigore. L'ex città di Messina sceglie lo stesso angolo ma stavolta Caron tenuto ci arriva sulla respinta lo stesso Citro e l'esto a ribattere in rete. 3-1 con l'undicesimo gol stagionale. Non è finita perché il marcianese continua ad attaccare e trova la quarta rete con Iadaresta che ancora di testa sigla la doppia vetta personale. Poco prima del triplice fischio, Santo Nicola con un passaggio filtrante trova Alfiero che in corso solo davanti a Mbimbo spara alto. Il marcianese sale a quota 27 punti e domenica Matera, big match con i Lucani.